Sono contento di far parte di questo stage, è qualcosa di importante, non facile, però è uno stage che tiene insieme tanti ragazzi, tante culture diverse, dopo un anno di allenamenti, quindi non è il caso di continuare a fare allenamenti, però ci sono delle sedute di allenamento nelle quali i ragazzi possono apprendere nuove conoscenze. Oggi il ruolo del portiere è cambiato, ho avuto la fortuna di percorrere il periodo del portiere allenatore di una volta e poi il periodo del portiere moderno e quindi sicuramente è cambiato, è cambiato per regole, è cambiato per gioco tattico, ormai tutti gli allenatori vogliono il portiere che sappia giocare con i piedi, che sappia impostare l'azione e che sia un regista difensivo nella fase offensiva e un libero aggiunto nella fase di non possesso. Quindi ora anche per noi allenatori è diventata più dura.